Nel segno del 3, il numero perfetto è quello che contraddistingue la Vigor Trani in questo avvio di campionato d'eccellenza. 3 sono i gol che la squadra allenata da Benny Costantino rifila alla sud-est, ma Del Miglio dal suo canto non fa drammi della sconfitta e dello zero in classifica. 3 sono le vittorie di fila dei Biancazzurri, ancora imbattuti e senza gol subiti, primi in solitudine a punteggio pieno. Un momento magico che chiarisce quali saranno le protagoniste di questa stagione. Oltre alla Vigor, occhio al Nardò che si impone per 3-0 sullo Stuni e alla liberta smolfetta del vulcanico presidente Lanza, tutt'altro intenzionato a lasciare la guida tecnica, anche se non in possesso del tesserino d'abilitazione, tanto da far arrabbiare l'associazione allenatori. I risultati al momento gli danno ragione. Due vittorie in trasferta, l'ultima a Bitonto con il gol sul filo di lana di Cesareo e un pareggio la rendono, alla pali del Nardò, la seconda forza del torneo. Dove chiedono spazio anche il Mola, al primo successo casalingo contro l'Ella Staranto, il secondo consecutivo dopo quello sulla sud-est, e la Virtus Francavilla che rifila quattro gol al Galatina sino a domenica, altra squadra a non aver subito reti. Rallenta lo Sporting Altamura, sorpreso in casa dal Castellaneta. Il pareggio per 2-2 conferma che non esistono squadre materasso in questa eccellenza, dove si fa spazio anche l'Ascoli-Satriano, vittorioso di misura a Casarano. Ricca di gol infine, la sfida tra Viest e il neopromosso Novoli. I garganici si impongono in rimonta per 3-2, confermandosi anche per questa stagione una delle squadre più interessanti del torneo.